Musica Questa insalata, nella sua semplicità, è davvero gustosa e colorata. Semplicissimi ingredienti per un gusto wow! Andremo ad utilizzare della rucola, pomodorini freschi e succosi, cipolla di tropea e il nostro formaggio cremoso di anacardi. Ci versiamo sopra il nostro formaggio cremoso di anacardi ed eccola! Musica Musica Grazie a tutti.